Come sei apprezzata dal nostro Marco Tana, vieni Alessio, buonasera anche a Marco, accanto a noi, ecco qui, guardi, due uomini voglio dire che mi tocca fare. Allora, intanto complimenti, bello, grazie, grazie di cuore, complimenti a te, senti ma questo cos'è, un tatuaggio? Questo è un tatuaggio, si, che sei andato a guardare, infatti, la particolarità ha tirato l'attenzione. È vero, e come mai hai tatuato proprio, poi mi ci fanno battuta su. No, io sono quattro anni che vedo questo tatuaggio, non è che la conosco, perché io già da un po' la conosco già, non è da te, già da un po'. Gatta Cicova! Questa è improvvisazione ragazzi, questa è arte! Si è visto la giarreciera, gatta Cicova! No, che cosa, no, è vera verità, insomma. Tra un po' mi chiama la moglie di Marco, eh! No, c'è uno sconvolgibile, quando canta lei, non è una serata... Come si chiama tua moglie? Perché devi far sapere queste cose? No, voglio dire che è tutto regolare, tutto normale, sto scherzando. No, 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 Luisa, Luisa, tranquilla, tutto sotto controllo. Se invece parliamo, ecco, di questo lavoretto qui, che tanto ti sta a cuore? Moltissimo, questa è la mia creatura musicale, anzi la nostra, la nostra perché siamo un gruppo e siamo assolutamente tutti coinvolti nello stesso progetto e con lo stesso principio che è quello della musica dal vivo, assolutamente, sempre e comunque. Bene, adesso però ascolteremo un'altra canzone che è stata portata al successo anche da Jimmy Fontana, eh, la nostra favola, che in inglese era De Laila, un pezzo bellissimo che ha fatto il giro del mondo, cantata anche da Tom Jones e da tanti grandi artisti, cantata anche da Giata e di Blu Nose, eh? Grazie. Atenti alla cerchettiera! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!